audio dell'udienza del processo a carico di Matteo Salvini, legata al caso Open Arms, che risale all'agosto del 2019. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e abuso di potere per aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave della ONG spagnola. Un caso che ha diviso l'opinione pubblica e ha segnato profondamente il dibattito politico italiano. Ora la registrazione integrale dell'udienza getta nuova luce sulle testimonianze e sugli sviluppi del processo. Analizziamo insieme i dettagli di quanto emerso. Ricordati di iscriverti, mettere like e commentare con noi. Non poteva che restituire all'imputato la consapevolezza della illegittimità dei suoi provvedimenti, del suo diniego, che non trovavano tra l'altro conforto da precedenti prassi del Ministero dell'Interno. Ne hanno trovato poi nei tempi successivi. Semmai più utile appare soffermarsi sulla linea difensiva a riguardo. In sintesi, secondo quanto ha dichiarato l'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee, non avrebbe fatto altro che rispettare le previsioni del tavolo tecnico del 2019, secondo cui dovevano avviarsi le interlocuzioni europee per la redistribuzione, mentre all'emore la nave era considerata un posto temporaneo, nonché le sue stesse direttive dello stesso anno, secondo cui nel caso un evento soccorso si sia verificato in acque di responsabilità libiche sia stato compiuto di iniziativa di una nave soccorritrice, non sussistono i criteri dettati dalla Convenzione per l'attribuzione di un posto in Italia. Concludeva pertanto che questo sequestro teorizzato non è altro che una modalità operativa che abbiamo adottato durante tutto il Governo Conte. Orbene, come pure si è rappresentato tanto il tavolo tecnico che la direttiva del Ministro si risolvono gli strumenti borderline di cui si è voluto adottare lo stesso imputato a sostegno della propria politica, ma questo in questo momento nemmeno rileva, anche perché né un tavolo tecnico né una direttiva possono prevalere sulle leggi di fonte primaria. In ogni caso, quanto alle disposizioni del tavolo tecnico, si è visto che considerano la nave post-temporaneo a condizione che essa possa essere tale, è scritto e affermato chiaramente nel tavolo tecnico. Quindi l'imputato, siccome ben sapeva che l'Open Arms non godeva delle dovute caratteristiche per fungere da posto sicuro provvisorio e sapeva pure che le trattative della redistribuzione si erano concluse, neanche rispettando, ha ritenuto di non rispettare neanche le previsioni del proprio tavolo tecnico che prevedevano una perdita di tempo in virtù della redistribuzione, ma purché la nave potesse costituire post-temporaneo e quindi neanche le indicazioni del tavolo tecnico poterono incidere sulla sua volontà di rilasciare il post. Quindi erano le sue stesse regole che venivano violate. Quanto alla direttiva, è pacifico che essa non possa essere trucura applicata alla vicenda in esame, in cui solo il primo evento di soccorso si era verificato in zona sarlibica e anche perché poi lo Stato, come abbiamo detto, era divenuto Stato di primo contatto e l'Open Arms aveva fatto ingresso in acque italiane. Del resto anche tale posizione si rivela contraddittoria con le dichiarazioni dello stesso imputato insieme di esame, allorché ha affermato che il post sarebbe stato rilasciato, ammettendo così che in quella situazione in realtà il post doveva semplicemente essere rilasciato. Quindi sulla consapevolezza dell'illegittimità dell'omissione non abbiamo dubbi. Sulla consapevolezza e volontà dell'illegittima privazione della libertà personale altrui, insomma, credo che ci sia poco da dire, bastando sottolineare che se un ministro agendo scientemente contro IUS sa di non permettere il legittimo sbarco e di non averlo permesso per più giorni, diventa la palissiano che sapesse anche che quei 147 migranti non potevano sbarcare. Indirettamente rappresentativa di questa consapevolezza è il ridimensionamento da parte del ministro della situazione a bordo, in palese contrasto con le macroscopiche evidenze che gli venivano rappresentate, facendo leva invece sulle urgenze sanitarie e mai ponendosi il problema della questione della libertà personale. Ma a tale proposito è emblematica la risposta che l'imputato ha offerto al Presidente circa i migranti che ormai esasperati si lanciavano sempre più numerosi in acqua. Le chiedevo se fosse stata a conoscenza di alcuni migranti che si erano buttati in acqua. Sì, sì, noi seguivamo, io tramite il capo di gabinetto, ma c'erano assicurazioni che non ci fossero situazioni emergenziali a bordo. Non è stato il primo caso, non è stato l'ultimo, quelli dei migranti che si sono gettati. Presidente, beh, non è proprio il massimo. Salvini, no, non è usuale fortunatamente, fortunatamente non è usuale, ma non è neanche Presidente, ma non è neanche molto tranquillizzante il fatto che i migranti si buttino in acqua. Insomma, lascia pensare che la situazione a bordo sia un po' pesante. Salvini, gli elementi che avevamo, ci dicevo che comunque la situazione non era a rischio. Allora, anche il termine non usuale utilizzato dall'imputato è indicativo della sua consapevolezza della gravità della situazione. La straordinarietà di quell'evento, quindi non usuale, a maggior ragione doveva fargli apparire la drammaticità della situazione e la conseguente non rinviabilità del rilascio del post. Del resto, il lanciarsi al mare non poteva risolversi anche agli occhi del Ministro in una vera e propria fuga da una situazione di restrizione. Sappiamo che le finalità specifiche non hanno rilevanza per l'integrazione dell'elemento soggettivo, però non vogliamo esimerci dal considerare una certa giurisprudenza del 2003, secondo cui deve escludersi la configurabilità del suddetto reato, parliamo di sequestro di persona, allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale la gente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale. Si tratta di una decisione forse poco condivisibile che, se non interpretata con la massima prudenza, si può risolvere nel fine che giustifichi i mezzi inammissibili per il nostro ordinamento giuridico, ma interpretiamola letteralmente, deve trattarsi dunque di un soggetto intimamente convinto di esercitare un potere riconosciutogli dalla legge. Questa sentenza non può assolutamente aggiungere altro nel caso che ci occupa, intanto perché il Ministro non poteva essere intimamente convinto di esercitare legittimamente un potere che gli era stato conferito, perché nessuno gli aveva conferito il potere di negare Tucur il POS. Gli era stato conferito invece il potere, o meglio il dovere, non si trattava neanche dell'esercizio di un potere ma dell'adempimento di un dovere, che era quello dell'indicazione del POS. L'imputato non poteva nemmeno ritenersi convinto di perseguire una finalità istituzionale governativa, come è affermato nelle sue dichiarazioni spontanee, dove dice in sostanza che la sua azione era collocata nell'ambito della realizzazione del programma della maggioranza, che aveva delineato, queste sono le sue parole, una politica chiara e condivisa sulla gestione dei fenomeni migratori che prevedeva il coinvolgimento dell'istituzione europea e che tendeva a contrastare il traffico di esseri umani. Programma che aveva, sto riassumendo, che aveva comportato sempre l'assunzione di scelte collegiali dell'intero governo, fino a quando delineatasi una frattura governativa per la crisi politica, i suoi ormai exalleati, contrariamente alle posizioni assunte in circostanze precedenti, come nel caso la motonave 18, improvvisamente rinnegarono le azioni del ministro dell'interno, il quale invece ritiene, ritengo di aver fatto un servizio utile al Paese. Comunque meno partenze, meno soldi per i trafficanti. Ora è inutile dire che anche più altri obiettivi politici devono essere perseguiti attraverso le leggi vigenti. Fermo arrestando la personale responsabilità del singolo ministro per gli atti posti in essere nell'esercizio delle sue funzioni in responsabilità penale e personale. Una possibile piena condivisione da parte del governo dei disegni dell'imputato sul tema dell'immigrazione, in ogni caso mai avrebbe potuto legittimamente autorizzarlo a violare le leggi del mare, il cui contenuto sovrarazionale impegnava fermamente lo Stato italiano. A conferma di ciò, ad esempio, laddove ce ne fosse bisogno, il ministro Trenta, pur componente di quello stesso governo, non esitate a evidenziare in dibattimento c'è un limite alla politica. Del resto che la linea del governo fosse ovviamente quella di perseguire gli obbertini comuni, gli obiettivi soltanto nel rispetto delle leggi vigenti, emerge plasticamente dal fatto che quando il provvedimento di sospensione del TAR pose fine al sogno dei porti chiusi e quando in contemporanea diventa pubblica la questione dei minori non accompagnati ristretti sulla nave, sia i due ministri controfirmatari, sia lo stesso Presidente del Consiglio, si ritennero in dovere di intervenire, i primi due non controfirmando il decreto interdittivo e addirittura il nuovo decreto interdittivo e addirittura la Ministra Trenta premurandosi per trovare delle navi per andare a prendere i minori, e il Presidente del Consiglio con le lettere a cui abbiamo fatto riferimento. Quindi quantomeno dal 14 si era interrotto il nesso causale tra la politica governativa e l'azione del Ministro che diventava assolutamente personale e rientrante nella sfera della propria responsabilità penale personale, perché essere alleati non significa essere correi. Le finalità perseguite dal Ministro Salvini quindi, quali potevano essere? Abbiamo escluso che si trattava di finalità istituzionali anche perché a fronte dell'avvenuto accordo di redistribuzione, qualora fosse quello l'obiettivo, continuò a negare il posto. Quindi la prosecuzione di quella linea intransigente non può che affondare le sue motivazioni in fattori diversi rispetto agli impegni assunti con il contratto di governo. Tali ragioni, oltre che intuibili, le ha evidenziate l'istruttoria dibattimentale. Presidente Conte, il clima anche che diventava un po' incandescente rispetto a una probabile competizione elettorale e a sviluppi politici futuri. Si voleva rappresentare il Presidente del Consiglio come quello che era debole, diciamo, nella gestione del fenomeno migratorio, mentre il Ministro all'interno era quello che diciamo che invece aveva una posizione di rigore. In quel momento, in un contesto politico particolarmente acceso, con un'opinione pubblica particolarmente attenta, sensibile al tema dei migranti, il fatto di dire che il Presidente ha una posizione lasca, una posizione debole, eccetera, io invece una posizione rigida, per lui diventava motivo di vanto, per me diventava motivo di utilizzo strumentale. Lo stesso Presidente Conte, nella lettera petta di cui avevamo dato lettura prima, diceva anche, comprendo la tua fedele ossessiva e concentrazione nell'affrontare il tema dell'immigrazione riducendola a una formula di porti chiusi, sei un leader politico e sei legittimamente protese a incrementare i tuoi consensi. Dichiarazione di analoga portata sono state rese anche dal Ministro Di Maio e quindi domanda, quindi non concede il posto o ritardarlo è uno strumento di campagna elettorale di acquisizione del consenso? Diciamo, risponde Di Maio, su questo non credo che ci sia un problema a dirlo pubblicamente, sì credo che tutto quello che veniva fatto era sicuramente aveva un fine, che era quello del consenso. Lo stesso dico e si perre il Ministro Toninelli, non esisteva più il Governo, esisteva una persona che andava in giro e parlava con parole pesanti per arrivare alla pancia delle persone della parte migratoria. Intendo dire che la loro Ministra Salvino ormai agitava, agiva in totale autonomia, era in campagna elettorale, si stava cercando di monetizzare, diciamo così, al massimo il consenso, stressando un argomento molto dibattuto in quel periodo. Lo stesso il testimone De Falco che riferisce di una discussione con la Ministra Trenta, ma rinvio alla memoria. Si tratta ovviamente di interpretazioni offerte dai suddetti però qualificati testi, che tuttavia offrono una lettura coerente di quelle condotte che ormai esulavano dal disegno comune e condiviso e così estreme e oltrone rispetto alle originali finalità da risolversi in un'auto, verosimilmente in un'autopromozione rispetto a chi la stessa fermezza del Ministro non aveva palesato. L'ho dimostrato del resto lo stesso imputato lo stesso giorno dello sbarco, quando con quel post con la diretta Facebook in cui affermava ai suoi elettori che avrebbe testardamente continuato a difendere i confini, ribadiva la propria coerente opposizione contro i clandestini e chiedeva il sostegno degli elettori. Rimane il rifiuto di atti d'ufficio però come sappiamo pur tutelando bene i giuridici diversi ha una struttura che già in qualche modo è stata analizzata sia per quanto riguarda del dolo generico sia per quanto riguarda appunto la sussistenza della condotta omissiva e del suo rifiuto. Possiamo dire che il rifiuto riguardava un atto qualificato per ragione di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, infatti i migranti si lanciavano in mare, se non erano dovute intervenire le motovedette della Guardia Costiera e vi erano anche ragioni di igiene e sanità data la condizione della Open Arms in generale e dei migranti in particolare. Il fatto che si trattasse di un atto indifferibile su questo credo che ci siamo spesi abbastanza. Quindi giungiamo alle nostre conclusioni. Riteniamo che il dibattimento abbia dimostrato che almeno dal 14 agosto 2019 sul sistema era il chiaro e preciso obbligo per il Ministro italiano e di nessun altro di rilasciare il posto. Che tale posto doveva essere rilasciato senza indugio non un'ora dopo rispetto al momento in cui era stato richiesto. Che il deniego avvenne in assenza di qualunque ignoranzia ma nel consapevole e intenzionale spregio delle regole. Che l'intenzionale e consapevole spregio delle regole non avvenne per ragioni di natura preventiva o repressiva, né per la tutela dello stesso migrante ristretto, né per un altro bene tutelato dall'ordinamento giuridico. Che l'intenzionale e consapevole spregio delle regole non avvenne nemmeno nel tentativo di proseguire un disegno politico governativo magari con qualche forzatura giuridica non giusta ma quantomeno tendente alla giustizia. Che dunque il deniego consapevole e volontario ha leso la libertà personale di 147 persone per nessuna ma proprio per nessuna anche solo apprezzabile ragione. In questo processo è mancata la presenza della gran parte delle persone offese perché anche per poter essere persone offese bisogna nascere fortunati. La maggior parte di loro è irreperibile, irreperibile in questo caso è più di ogni altro, non vuole dire fuggitivo, non vuole dire criminale e nemmeno che sia rimasto illeso dei giorni di restrizione sull'open arms ma significa essere senza casa e senza mezzi. Allora la loro assenza fisica così come il fatto di considerarle un insieme, cioè l'insieme dei migranti o peggio l'insieme dei clandestini potrebbe non fare percepire l'esatto disvalore del fatto. Leggeremmo ad uno ad uno il nome di queste persone per ricordarle nella loro individualità perché è anche per ciascuna di queste persone che ci accingiamo a chiedere la condanna dell'imputato oltre che per difendere i confini del diritto. Per questi motivi chiediamo alla luce di quanto si è non resposto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati e di condannarlo considerato il vincolo della continuazione interna e esterna per entrambe le fatti specie alla pena di anni 6 di reclusione oltre alla pena accessori di legge. Grazie.